Si è allontanato da casa sabato mattina e da allora non si hanno più sue notizie. Ore di angoscia per la famiglia di Draghisa Stojanovic, 53enne di origine serba, da molti anni residente a Villa del Conte. Sabato scorso è uscito di casa in sera alla sua mountain bike rossa e grigia e non ha più rientrato. La famiglia ha diffuso alcuni elementi utili per l'identificazione. Il 53enne è alto 1,65 m, capelli brizzolati, una cicatrice sulla guancia destra, indossava pantaloni e giacca verdi.